Giovanolette, carta calamari e pinta, su! Allora, scrivi via! Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su! Carta calamari e pinta! Signorina? Signorina? Dove sta? Sì, la signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. Signor... Avanti! Anivare, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina! Non era buona quella signorina? Ma già. Signorina, veniamo... Veniamo... Noi... Noi... Con questa mia a dirvi... Con questa... Veniamo noi con questa mia a dirvi... A dirvi una parola. A dirvi... A dirvi una parola. Che? 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 Uno, quanto? Che? Uno che? Uno che? 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 Eh... Scusate se sono poche. Che? Che? Scusate se sono poche. Ma settecentomila live... Punto e virgola. Noi... Noi ci fanno specie che quest'anno... Una parola... Quest'anno... C'è stato una grande moria delle vacche. Una grande... Come voi... Ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ma sì... Fai a vedere che abbondiamo. Abbondandisi... Abbondandum. Questa moneta... Servono... Questa moneta servono... Questa moneta servono... Che voi vi consolate... Oh, scrivi presto. Con insolato... Che voi vi consolate... Con pagol... Avevo capito con l'insalata. Voi vi consolate... Non mi capirete il filo... Che ce l'ho tutta qui. Avevo capito con l'insalata. Dai di spiacere... Dai di spiacere... Che avrete... Che avrete... Che avrete... Che avrete... Eh già... È femminile... Che l'avete perché... Che? Perché? Non so. Io non so. Perché che cosa? Perché che? Perché che cosa? Perché? Ah, perché qua. Da di spiacere che avete perché? Perché qua. È aggettivo qualificativo, no? Beh... Io scrivo. Perché... Dovete lasciare... Nostro nipote... Che gli zii... Che siamo noi medesimo... Di persona... Ma che stai facendo una faticata? Si asciugli su tu. Che siamo noi medesimo di persona... Vi mandano questo. Questo. Perché il giovanotto... È studente che studia... Che si deve prendere una laura... Laura. Laura. Laura... Laura... Che deve tenere la testa... Al solito posto. Cioè... Cioè... Sul collo. Punt... Punto e virgolo... Punto. Punto e un punto e virgolo. Troppo lungo. Saluta... Lascia fare... Che dica che noi siamo provinciali... Siamo tirati... Salutandovi indistintamente... Salutandovi indistintamente... Salutandovi indistintamente... Sbrigati... Salutandovi indistintamente... I fratelli Caponi... Che siamo noi... Caponi... Caponi... Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma... Senza nulla a pretendere... Non c'è bisogno. E' andata a dirlo. Ma... Vabbè... Vabbè... Si capisce. Vabbè... 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 Chiudi. Eh... Andiamo. 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 Vabbè... Lucia, noi andiamo! Noi usciamo! Fatta attento, eh! Capito.